...al potere, che stanno nel mondo politico siciliano, sia di destra che di sinistra, stanno aderendo al tuo pensiero? Sì, sì, stanno... Sono stanchi. Sì, ecco, svolta, ci occupiamo di economia, mettiamo in campo persone nuove. Tu in questo non vedrai, fratello, ex deputati, ne manco uno, perché salvo i sinteti piccoli comuni che lì ci sono ragazzi per bene, evidentemente... Come ci sono anche dei deputati per bene, che hanno voglia di fare. Su 90 deputati io penso che due o tre ci saranno. No, assolutamente, però, come dire, quelli saranno una minoranza. Dobbiamo puntare a una classe di gente nuova, anche perché siamo in grado. E quando andremo al meccelettorale, i voti prenderli. Io quando mi sgangiai, tanti anni fa, perché la vita, quando la rete non funzionava, io allora ero ancora, frate, tanti anni fa, allora avevamo fatte le guerre, si giravano le scorte armate, queste cose un po' assurde. Io ho fatto, con il professore Piraino, Erasmo Vecchio, persone tutte in gamba, un movimento chiamato Noi Siciliani che ha preso in un mese solo 100.000 voti. Ha dimostrato solo... Ma se mi ricordo male, sei stato proprio questo, la stancata di l'età di Luca Orlando? Sì, sì. Attraverso questa operazione. Non sei capace, dico, Luca Orlando, quanti voti abbiamo come rete? 300.000, me ne porto via 100.000, sei matto, in un mese. E non mi dico che sta accadendo adesso? Vuol dire che c'è opinione. Dopodiché, Francesco, io ho voluto fare una cosa, frate, io ho fatto il tuo stesso lavoro. Mi sono fermato, io ero uno famoso, hanno scritto i libri su di me. Sono tornato lavoratore, libero professionista, ho messo sullo studio, abbiamo fatto i progetti, abbiamo fatto il circuito dei castelli siciliani, il registro del patrimonio culturale immateriale. Tu qui sei un centro di cultura, in termini tecnici, secondo il linguaggio dell'UNESCO, di patrimonio culturale immateriale. Qui c'è l'intelligenza. Che cosa? Un tempio, fratellino mio, può morire. Una ricetta di cucina millenaria non muore mai. Non muore mai. Questa tua qua, è una sede di intelligenza. Io lo vedo anche come una cosa che potrebbe far bene a tutto il sud. Chiedo scusa se forzo, io penso a questa cosa, come una cosa che adesso invade tutto il sud. Ci sono ragazzi straordinari. Guarda, mi fai fare qualche esempio? Certo, certo. Qualcuno si aspettava che un ragazzo venuto dal nulla, Saviano, scrivesse un libro, uno dei più esistenti. Io, quando l'ho letto, ho capito che stava nascendo una nuova generazione. Mi sono commosso. Sai quanti sono invidiosi? Ma quello è un libro omicidiale, che ha spiegato come il sud e il nord sono uniti. Perché le monnezze del nord lo mandano a nave. Chiaro qual è il punto? Altro che i discorsi degli economisti. Ha detto che il nord e il sud sono uniti. Altro i nordisti. D'accato. Ti faccio esempio. Scrittori straordinari. Tu sei un uomo colto, un musicolo. Cioè, sta uscendo, è emersa una nuova generazione di scrittori. Vedi, a volte uno fa lo scrittore. A volte per disperazione. Non potendo fare il manager, ricapibili perché è più difficile. Pasquale, altri, meravigliosi. Ce ne sono una trentina che sono geni. Ti dico una cosa raffinata. Ma questo c'è anche il nipote di Buttitta. Oggi, fratellino, Ignazio Buttitta ieri, diciamo, quarantino, l'abbiamo buttato nell'arena per dare il segnale alla nuova generazione. Lui sintetizza. Suo nonno, che è stato cantore dei miei antenati. Suo nonno, era il cantore di tutto il sud. Suo padre e sua madre, grandissime, lui, questo ragazzino Buttitta, perché attorno a loro si deve aggregare una nuova generazione. C'è il genio del genio. Di intellettuali. Il genio del genio. Allora, poi, mi piacerebbe con te un po' discutere del sud, se ritieni. Vorrei allargare, perché è il cerchio forte che tiene anche la Sicilia, non puoi perdere. Ma voglio dire, io ho detto, in una fase in cui predomini il nordismo, leghista, razzista, i meridionali, incapaci, spreconi, parassiti, cose da pazzi. Sì, ne vorrei un attimo. Io dico, volete sapere chi ha raccontato la storia del sud in un'ora e mezza? La storia vera di tutti noi, sulla quale, insomma, Giuseppe, Tornatore, Comparia. Quella è la questione. È il libro più importante uscito sulla questione americana. È chiaro? Quindi reggiamo, mi sei ragazzo per bene, delicato, umile. E questa razza umile... Il bello della Sicilia. Sì, che però deve affrontare il problema del potere. Noi non lo possiamo più delegare. È chiaro? Questo è lo scatto di coraggio. Angé, posso parlare alla parte? Vai tranquillo. Tu sei uno dei più grandi intellettuali del sud. Ma che dici? Te lo dici? Non scappo. Non ne sapevamo niente. No, no, questo è il guaio. Non sapevamo niente. Allora, posso fare una battuta sul sud? Perché questa è la patria più larga, senza la quale siamo persi. Allora, sul mezzogiorno ci sono quattro atteggiamenti, quattro interpretazioni e quattro comportamenti. Uno dice, continuiamo con l'assistenzialismo, un po' dell'SPU, SPU, cooperative finte, pubblici impiegabili. Le politiche ci danno i voti e comandiamo noi. Quindi il vecchio modello assistenziale, quello che ci ha resa cattoni più di quanto, è ancora quello prevalente. Va respinto se no è la fine. Poi c'è il modello centralistico buono, quello interpretato dal grande presidente Giorgio Napolitano, che è un grande meridionalista. Però lui pensa al ritorno un po' alla funzione forte dello Stato centrale, che non c'è più. E per la posizione... Alla cassa, un'altra cassa del mezzogiorno, non funziona. Lui ha fatto un intervento bellissimo, commovente a Rionera in Vulturi il 3 ottobre 2009, ma è da rispettare quella posizione. Poi c'è la posizione più pericolosa oggi prevalente, che io chiamo scissi da scienziatino, umile l'ultimo. Diciamo l'approccio, il paradigma, l'ottica all'impostazione scissionista, che ha varie versioni. Quella leghista, che comanda nell'Italia, cioè non è che comanda Berlusconi in Italia, comanda Bossi, adesso rivingerà e comanderà ancora di più. E prenderà più voti ancora. E la lega come strategia di dividere l'Italia, perché dice ci avete aiutato a far ricca l'Italia voi meridionali. Vi abbiamo sfruttato per 150 anni, ci avete dato gli emigrati, vi abbiamo fatto un mazzo tanto come operai, ecco si può dire, eccetera. Adesso non ci servite più, quindi ci facciamo un piccolo belgio, un belgiotto, grassottello, non andranno da nessuna parte miserabile, che nella globalizzazione se dividono l'Italia si rovinano. A noi ci ammazza, ma loro si rovinano. Quindi loro vogliono dividere l'Italia. E questi glielo fanno fare, sì, sempre che giocano. La posizione che va oltre del nordismo radicale, nel senso, Francesco, anche le formazioni di sinistra, gli intellettuali di sinistra, te ne cito uno storico di alta classe, Giuseppe Berti, sono tutti nordisti, ormai hanno un unico paradigma, il nord contro il sud, è una fregnaccia, pericolosa. Il nordismo quindi trasversale. E poi la posizione, cito, ne abbiamo parlato ieri alla Sala Gialla, il più grande, presunto, gli darò bastonata, politologo italiano, pane bianco, ha fatto due articoli, micidiale, sul Corriere della Sera, un agosto, in cui dice, visto come stanno le cose, contro lui, dobbiamo liberalizzare di più il nord, renderlo più ricco, forte e libero, e commissariare il sud, che è la stessa proposta dei razzisti ottocenteschi di Lombroso. E' chiaro? Quindi di fronte a questo, sa che facciamo? Unifichiamo il sud e gli facciamo vedere i risorci verdi. E' chiaro perché ci siamo arrivati. Dopodiché, la quarta approccio è quello che si può chiamare unitario, federalista unitario, insieme a autonomia e unità d'Italia, perché sarebbe un errore per i nostri figli spaccare l'Italia, che nonostante sia stata fatta male, conquistata, gli orrori, che cito tre approcci, uno è siciliano, per esempio la posizione di alcuni ambienti di convindustria, lo dico in punta di piedi, per rispetto anche di Ivan Lobel, è una posizione che aiuta. Ivan, sempre su Sole24 ha fatto quest'anno un paio di articoli, in cui ha detto la coalizione dello sviluppo contro quella della rente, che è esattamente anche la mia, ovviamente, strategia. La coalizione dello sviluppo, siamo anche io e te qua, in questo studio, contro i parassiti vari che fingono, raccontano, millantano. Ecco, politicante da strapazio, venditore di cravatta. Ce ne sono, eh. Poi, a spensione, un altro apporto, Mario Draghi, Mario Draghi, governatore della banchità, ha convocato un seminario il 26 di novembre 2009, con un'impostazione seria, in cui ha detto, senza una grande politica dell'Italia, le politiche regionali, delle singole regioni, le politiche dell'Europa, ecco, ha detto una cosa, più i grandi maestri. Quindi, innanzitutto, Giorgio Ruffolo, Giorgio Ruffolo, era l'allievo privilegiato di Mattei, Gugola Malfa, Saraceno, il leader, ragazzo d'oro. Quindi ha continuato a pensare, gli abbiamo reso omaggio. E che voglia di fare a tutt'oggi? E che ci accompagnerà? Abbiamo già deciso di fare adesso un incontramento a Bruxelles, di girare tutto il sud. Un omino meraviglioso, mi sai che devi... Peppe, io conoscendo anche, scusa se ti interrompo così, bruscamente... Quindi noi dobbiamo portare avanti questo quarto approccio, federalista unitario. È chiaro qual è il punto? Stavo dicendo questo, Peppe. Questa è la svolta. Chiaramente per chi ci sta ascoltando, i nostri telespettatori pensano, dice, ma può essere che questo Peppe De Santis, esperto del presidente Lombardo, non è stato accontentato in qualche cosa, si è incazzato adesso, sta mandando a quel paese Lombardo, e sta creando questo movimento forte. Ci sono i malepensati. Sì, certo. Vogliamo invece far capire che qui a te non fregava niente di avere... Non proprio niente, no, no. ...un posto di accesso... No, assolutamente. Non ce ne frega assolutamente niente. No, 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 no. Io non volevo niente, non voglio niente, lo sanno tutti. Per esempio, a un certo punto, anche in positivo, si era parlata, per esempio, di una... Possibile, facendo, diciamo, la selezione, tutte le cose serie, come capo del nucleo della programmazione, ho detto di no, questo è notorio. Ah, ti era stato dato un incarico e tu hai rifiutato. No, non mi interessa, perché a me interessa mobilitare la nostra gente. Il patto morale, tra me e Raffaele, è stato una grande politica, perché senza la grande politica... Allora, la corruzione deriva dal fatto che la democrazia è debole. Se la democrazia è debole, dipende dal fatto che non c'è una politica seria. Una politica seria non c'è se non ci sono partiti seri. Lo vedi che è tutta una conseguenza. È chiaro? Certo. Quindi, cioè, uno dedica la vita alle cose serie, anche perché ci siamo umilmente allenati, ci siamo preparati. Io, quando ero sintagrista, mi propose ad un certo punto, con amore, dice, Peppe, vieni a Roma e fai il vicepresidente di Sviluppo Italia. Era un grande... Stiamo parlando di... A 30 anni... Voglio dire... Lo stipendione, la MAC, la segretaria magari elegantissima e bella che ti tiene sugli ormoni, che non fa male alla salute. Tu che sei maria con le segretarie. Senza amore non c'è niente, quella vera. Non questo è il puttanesimo generale. Quindi possiamo dare garanzia al nostro pubblico che ci ascolta che... Dopodiché, non c'è un malessere. Chiamo a testimone l'ex presidente bravissimo Nello Musumesci di Catania, che è stato un tecnico per i progetti. Non è quello il consulente che non si sa che fa, quello che porta miliardi e ottiene risultati. Dice, ho fatto il codice... Che hai fatto? No, ho fatto, però poi non l'hanno portato avanti. Musumesci, gentilissimo, mi propose parecchi anni fa, ma non molto, 5-6 anni fa, dice, beh, beh, guarda, abbiamo deciso una cosa bella, per me sei simpatile. Vai dal notaio, poi la firma, appena dopo l'elezione non devi fare niente, tanto abbiamo la maggioranza, non so, e fai il senatore, indipendente. Gli ho detto di no. Per non essere confuso. Hai rifiutato anche il posto da senatore. Lo chiedi, chiedilo. Io ci volevo fare una domanda, poi, se mi dà parola, io la ringrazio, perché, visto che questo... Ti stai rendendo conto che Pepe De Santi è un Etna proprio, un vulcano che esplode. Cioè, il sud... Si avvenghiare che tu sei un ragazzo meraviglioso, l'ho già capito. A me la vuol dire, mi guardo allo specchio, mi avvado tutto. È un onore. Si, volevo dire una cosa, io non ti conoscevo. Abbiamo un piccolo neo che c'è, non diciamo... Quelli del nord magari lo amplificano, ma c'è. Che idea c'è per cercare di eliminare, o almeno, diciamo, rendere proprio ai minimi termini, la criminalità organizzata? Allora, che nel sud c'è. Questo, dire che è una priorità assoluta, come dire, è un preliminare e va fatto con tutte le mafie e lo dico così, un decennio di scontro frontale. La questione mafiosa e delle altre criminalità organizzata non è soltanto... È nazionale. Questa è la prima, non per scaricare, perché qui hanno gli insediamenti e lì fanno gli affari, come dimostrato tutti i dati. Il professore è diventato Forgione, mi aveva scritto un libro bellissimo in cui descrive, mi segui? Francesco Forgione. Però stiamo attenti a quelli che hanno per molti anni si sono occupati di antimafia. Ah, che lo fanno come mestiere? Che lo fanno come mestiere, perché quello... No, no, quello è un mestiere, quello pure io... È come quello che diceva che fa politica per mestiere. No, io pure, quando finisco una cosa non ne devi più parlare. Quindi, da questo punto di vista vi dico una cosa per onorare un grande siciliano che è lo storico più bello, Francesco Renta. Francesco Renta ha scritto un libro con un mio amico dolcissimo che si chiama Antonio Riolo, uno dei più bei sindacalisti. Hanno scritto un libro in cui c'è una sorta di manifesto della lotta antimafia come questione nazionale. Mi sai qui? Quindi la lotta deve essere la priorità dei prossimi governi nazionali. Non so se è chiaro. Con noi in prima linea. Anche perché, frate, noi lo subiamo, ma siamo anche quelli che ci lottiamo più contro. Sono i nostri fratelli quelli che sono stati eroi. Un giorno, quando si dirà quelli che sono stati gli eroi d'Italia di questi anni? Si dirà. Borsellino, non ci sono altri nomi. Siamo noi, ragazzini cresciuti come quattorno. Quindi, attenzione. Quindi, priorità assoluta e voglio dire una cosa come aiuto. Perché Francesco, l'ho riletto anche stamattina, nei giorni scorsi, il 21 di gennaio, poi è uscito qua fino a noi, la Chiesa, la conferenza episcopale italiana, la CEI, ha promulgato questo documento sul Mezzogiorno, che è una bomba atomica. Perché finalmente la Chiesa ha fatto sentire la sua voce. La Chiesa ha dei problemi di notte. È in crisi. Ma intanto, valgono anche le parole, per un paese solidale Chiesa italiana nel Mezzogiorno, è una bomba atomica. Appare sul fronte proprio della mafia, dice mafia peccato, struttura del peccato, cari preti e come dovete fare la guerra frontale, prendendo ad esempio quelli morti, testimoni, mi segui? Chiaro? Partendo da lì. nel Livatino. È una bomba che è stata pubblicata alcuni minuti dopo dell'ultimo scantalo, quello del onorevole entrancchietista, insomma, mi segui, di Girola. Di Girola. Qui dice ancora che la questione meridionale esiste, che è unitaria, che le otto regioni devono lavorare insieme, che la questione meridionale è tutt'una con la questione mediterranea, che è il nostro, mi segui? Mettere insieme la nostra gente mediterranea, perché l'Europa si è spostata tutta a est, Germania, Russia, mi segui, l'asse economica è tutto lì, mentre noi dobbiamo rompere il muro da queste parti. Ma tu non credi invece di questo? Dice di costruire una nuova generazione di scuola della politica, come quella della Libere Università di Pintacuda. Padre, mio maestro, noi l'altro giorno te l'avevo accenato, sono stato a Taranto, a ricostruire la Libere Università di Pintacuda.